Trentunesimo appuntamento di telefisco organizzato dai giovani dottori commercialisti per affrontare le novità e le tematiche contenute nella nuova legge di bilancio. Quest'anno l'evento è stato organizzato al Palazzo del Mare di Roseto e ha visto la partecipazione di un buon numero di commercialisti che hanno esaminato temi importanti assieme ad esperti del Sole 24 Ore legati anche alla pandemia che ha condizionato le attività di aziende e professionisti. Le aziende che si sono trovate obbligate in alcuni periodi a chiudere, alla cassa integrazione, ad avere personale bancante a causa del Covid. La prima richiesta soprattutto è quella di contributi, di aiuti economici per poter sostenere i costi che comunque sono fissi e rimangono anche in pandemia. Noi commercialisti abbiamo cercato di organizzare i nostri studi per far sì di rispondere a tutte le loro esigenze e per poterli appunto sostenere in questo periodo di crisi. Un settore, quello delle imprese, che non sta vivendo un momento facile per via appunto della pandemia? Sì, assolutamente sì. Tutti i settori, da quelli industriali, commerciali, sono segnati ovviamente dalla pandemia. Noi cerchiamo con il nostro lavoro e con il nostro supporto di essere vicini agli imprenditori e di fare quello che possiamo per far sì che superino questa parentesi della vita imprenditoriale brillantemente e che non rimangano colpiti. La nuova legge di bilancio contiene elementi importanti per garantire la ripresa delle imprese una volta superata l'emergenza sanitaria. Tra le novità della legge di bilancio sono previste molte iniziative volte all'aiuto per le imprese per la ripresa post pandemia. Quali sono questi aiuti? Su cosa si può contare? Guardi, le principali misure previste nella legge di bilancio e in tutti gli altri provvedimenti mi viene da pensare principalmente su due filoni. Il filone della ripresa dell'indotto edilizio rappresentato dalle misure del super bonus, super bonus 110% e tutte le iniziative volte all'aiuto alle imprese e enti pubblici derivanti dal PNRR. Quindi la declinazione di tutte queste misure oggi richiede un ruolo centrale del commercialista che purtroppo nostro malgrado a livello nazionale sta mancando. Manca per una serie di divisioni interne alla categoria che oggi sono totalmente fuori luogo.